Ragazzi, ragazzi, che sofferenza, cioè io ripeto, la Champions League è un'altra cosa, nel senso che a me emoziona molto di più la Champions League, gli scuoletti hanno vinti tantissimi, quando qualcuno, cioè molti tifosi ventini, prima di questa partita dicevano è più importante con l'Inter che con lo Zenith, no, quando c'è la competizione più importante è sempre più importante quella competizione lì, perché poi se arrivi secondo nel tuo gelone, poi non puoi neanche lamentarti se ti, qualora ti dovessi beccare, hai fatto una prima forte agli ottavi finale, prendi e stai zitto, perché un conto è arrivi primo, becchi la seconda più forte, una seconda forte, e dici lì puoi dire eventualmente, io non parlo di fortuna o sfortuna, perché se sei forte elimini comunque quella che è stata sfortuna, ma se tu arrivi secondo e becchi la più forte, stai zitto perché è colpa tua, questo non significa che se arrivi prima hai più possibilità di vincere la Champions, perché tante volte c'è chi ha passato il giro di poco e poi ha vinto la Champions, questo poco ma sicuro, ma la mentalità deve essere quella, in Champions League, perché non è possibile che in Italia, diciate tutti che vince non è importante l'unica cosa che conta, in Europa invece ci sono mille alibi, ci sta il pareggino, ci sta le stronzate qua, no, in Europa si gioca questa competizione qua per vincere, per vincere cazzo, se sei la Juventus c'è 38 scudette, è l'obbligo di puntare a vincere la Champions League anche con una squadra di merda come abbiamo adesso, perché il Real Madrid quando aveva questi qua e battevamo questo Real Madrid qua in casa loro, in casa nostra, non avevano la squadra per vincere la Champions, però ci puntavano e se non vincevano la Champions comunque per loro era fallimentare, punto. Detto questo, ragazzi mi raccomando, sotto il link, prima di tutto mettete in piace al video, sotto il link in descrizione, il link di fan rating, avete stufi dei soliti voti, su fan rating web li potete dare voi ed essere premiati per farlo, si possono vincere buoni Amazon, videogames e addirittura biglietti per andare allo stadio, in più c'è tutta un'interessantissima sezione dedicata agli sfottò, alle notizie e ai video in diretta, ci sono anche i miei, e in cui potrete interagire con altri tifosi, insomma un progetto molto interessante, una vera casa del tifoso, quindi mi raccomando, link in descrizione, fate le pagelle che poi le confrontate con le mie. Detto questo ragazzi, allora, la Juventus ha battuto 1-0 lo Zenit a San Pietroburgo, con un gol di Kuluzeski che è entrato male secondo me, non ha fatto bene, non mi è piaciuto, purtroppo per me questo giocatore è molto ignorante calcisticamente, ha delle giocate, sarà secondo me discontinuo nella carriera, ha fatto un gol bello, di testa, quello che vogliamo, però diciamo che è abbastanza casuale, nel senso che non è mai nulla casuale, però bravo a trovarsi lì, ad avere voglia, ad avere lì furbizia, di spizzarle e basta, senza andare a impattarla, insomma per impattarla di fronte, con la fronte piena, bravo lui, bravo De Sciglio, che secondo me secondo tempo suo non è stato buono, quello di De Sciglio, buono il primo, secondo tempo non è stato così buono, allora, a primo tempo non mi era dispiaciuto, mancava secondo me la giocata di qualità, ragazzi noi abbiamo una squadra tecnicamente scarsa, abbiamo una squadra senza personalità, perché ci sono delle verticalizzazioni che vanno fatte, anche questo Locatelli qua che viene esaltato, viene esaltato per cosa? Per due gol che ha fatto, ma di fatto se noi guardiamo le verticalizzazioni, quante verticalizzazioni ha fatto da settembre ad oggi? Da agosto, fino agosto ad oggi? Quante giocate ha fatto? Ha fatto delle giocate che le avesse fatte Pianic, l'avremmo massacrato? Oggi, tanto criticato anche da me, Arthur, è entrato, ha preso una munizione subito, però poi ha fatto la verticalizzazione per Quadrado, che quasi, e non andavamo in gol già, con Quadrado, poi, Morata, Morata, che per carità non è che abbia fatto chissà che partita, però ha fatto una partita di sacrificio, tante sportellate, tanta corsa, e ha fatto un assist per McKennie, che là, cioè McKennie fai lo scavetto e la butti dentro, cioè io McKennie l'ho giustificato sul discorso a mezzala, 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 oggi secondo me ha giocato a mezzala in sedimento, e si è mangiato due gol almeno, e allora, figlio mio, poi, io ti posso venire, tra virgolette, anche incontro, ma se poi mi sbagli questi gol qua, la sufficienza non te la meriti, perché come quando criticavo Chedira e Motudì, che avevano due piedi, perché Chedira faceva gol per carità, ma molte volte se ne sbagliava, ne sbagliava pure lui tanti, e dicevano che erano intelligenti tatticamente, perché si inserivano bene, però poi se davanti alla porta mi sbagliavano i gol, e io la sufficienza non gliela davo, e quindi è la stessa cosa per te, punto, fine, cioè, qua non si discute, ok? Poi sotto i commenti, i voti, mi raccomando, le pagelle, come le pagelle, le farò anche su Fanating, mi raccomando, per confrontarle con le mie, andate a votare su Fanating, il link in descrizione, come vi ho detto prima. Detto questo, sinceramente, vittoria, 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 cioè, come contro Roma prendi di buono i tre punti, ho detto 0-2, finita 0-1, prendi di buono i tre punti, basta, solo quello prendi di buono, di fatto, perché è stata una prestazione, nel secondo tempo, pessima, cioè, nel secondo tempo, veramente, cioè, veramente una squadra senza personalità, vedi, i giocatori, Morata nel primo tempo ha fatto 20 scatti, scusate, nel primo tempo, nei primi 20 minuti ha fatto una decina di scatti, cioè, dava il suggerimento di passaggio, e i compagni lo guardavano e tornavano per via orizzontale. La roba che io non ho mai sopportato con le squadre di Allegri e con molti giocatori, che, fin dai tempi di Pjanic, che dire, ma tutti, venivano sopravvalutati, punto, perché anche quelli erano c'erano piste sopravvalutati, che sembravano fortissimi perché eravamo ed erano in un campionato mediocre. Erano a penaldi sopra, la mediocrità, buoni giocatori, nulla di più, fine, e sembravano fenomeni, fenomeni non lo erano, ok, boh. E tanto di più questi qua, insomma, comunque, Bentancur è un altro giocatore che aveva fatto bene contro la Roma, oggi per me ha giocato male, cioè, ha sbagliato tanto tecnicamente, contro la Roma, meno ha sbagliato. Ecco, prestazioni, prestazioni positive, io vi dico, Delete, Delete, Desciglio, per il close, per il buon primo tempo, e Kulusevski, secondo me, si becca la sufficienza per il gol decisivo, comunque, Morata, per me, si è sbattuto di più, ha fatto comunque 70 minuti, quanti non ha fatti, che ne ha ragazzi quando entra, a me, a me è snervo quel giocatore, cioè, per carità, corre, si impegna, così, così, ma non dà un supporto alla squadra, un minimo di supporto, non lo dà, questo giocatore, quindi, sinceramente, non mi fa impazzire, ecco, non mi fa impazzire, quindi voi lasciamo stare Scesni sta per fare una cagata al primo tempo, malissimo Bonucci malissimo, ma veramente male Bonucci buono Alessandro, secondo me al secondo tempo ma malissimo Bonucci, malissimo Chiesa, malissimo quel giocatore era là ragazzi vi dico ve lo dico già da tempo, ve lo ripeto ora ve lo sottoscritto qua, se non impara ad alzare la testa, quel giocatore lì non sarà mai un top player, mai sarà un buon giocatore, un ottimo giocatore con delle qualità importanti, ma non sarà mai un top player e devi migliorare adesso, perché poi più avanti vai, difficilmente migliori quella caratteristica lì lui abbassa la testa se gli riesce la giocata bene va al tiro se non gli riesce la giocata perde palla perché non alza la testa e non guarda dove sono i compagni questo è un grande difetto che ha come un grande difetto Krusevski che non pensa già alla giocata prima che gli arrivi il pallone perché tecnicamente non è scarsissimo non è scarso, però è molto discontinuo ha un fisico che dovrebbe imparare a usare meglio e invece lo usa male e tecnicamente va affollato e pure lui la giocata la trova, ma poi contro 5 giocatori appena è entrato, parte in contropiede contro 5 giocatori, cazzo vedrai che c'hai 5 giocatori cosa cerchi di saltare un giocatore che poi ne hai altri 4 aspetta che arrivino i compagni anche là, contropiedi giochiamo in contropiede sì ma se poi tu non giochi in contropiede non riparti chiesa me lo vedo ala il centrocampo ma è possibile? no ala il cazzo nel secondo tempo anche quasi sulla linea dei difensori ma è possibile? ma è possibile? Salah aiuta la squadra sì Salah aiuta la squadra nel Liverpool ma non fa il terzino aggiunto porca troia questo è una cosa che ad allegri porca troia che poi puoi vincere anche a sempre siccome ha fatto il cazzo quello che vuoi ma il problema rimane la concezione sbagliata rimane perché poi quel giocatore lì per me lo rovini già che non è completo in questo momento chiesa perché è un dato di fatto facendolo sacrificare in quella maniera lì lo rovini secondo me lo rovini lo rovini per me Bernardeschi aveva fatto nel primo tempo bene il secondo tempo vabbè non ha giocato tantissimo il secondo tempo però a dire di questo aveva fatto bene il primo tempo cioè da sufficienza secondo me poi metterò i voti per il resto ragazzi buona la vittoria importante la vittoria importante la vittoria in Champions League che ci porta a 9 punti che ci porta quindi a più 6 se non sbaglio dallo Zenit che ci tiene a distanza dal Chelsea a più 3 buona perché noi alla seconda giornata di ritorno abbiamo il Chelsea pensavo all'ultima invece alla seconda abbiamo il Chelsea a Londra quindi devi arrivare con il più 3 lì con il più 3 assolutamente devi arrivare perché lì allora ti può bastare un pareggio allora lì puoi dire se pareggi va bene ma non prima perché la partita più importante non è contro l'Inter era questa la partita più importante e non mi frega un cazzo l'Emma se l'Inter ragazzi prima cosa vi ho detto gli scudetti ne abbiamo tanti il nostro obiettivo principale deve essere quest'anno sappiamo abbiamo una squadra di merda di merda però per i prossimi anni deve essere comunque la Champions e poi lo scudetto ma prima di tutto la Champions per cambiare sta cazzo di mentalità la Champions deve essere il nostro primo obiettivo e poi entrare in zona Champions quest'anno perché quest'anno questa squadra qui è più per partite secche che per continuità di rendimento quindi per un campionato è più da e l'anno scorso non dicevo questa cosa qui a chi mi diceva che la Juventus la vedeva più europea no quest'anno io ho questa sensazione qui che è più da partite secche questa squadra però ci sono tantissime cose a migliorare a livello tecnico a livello di mentalità a livello di coraggio troppe cose a migliorare cioè non che poi nel primo tempo abbiamo giocato siccome abbiamo giocato calcio abbiamo avuto noi il primo gioco ma se poi negli ultimi 20 metri 30 metri Allegri non allena i giocatori sui movimenti anche se secondo me li hanno fatti in maniera giusta perché meccanici inserivano Morata tagliava ma il problema è poi sono sempre quelli dietro perché qua mi dicevo ma Pjanic non ci sono i movimenti davanti no cioè cazzo con Pjanic c'era Iguain che attaccava la profondità ma scherziamo c'era Iguain che attaccava la profondità oggi Morata ha fatto 10 scatti Locatelli Bentancur vabbè lasciamo stare McKennie un cazzo di verticalizzazione poi è entrato Quadrado nel secondo tempo ha fatto Benino il solito Quadrado confusionario quello che vogliamo però vabbè è che abbia fatto disastri ecco però ha giocato a terzino destro praticamente buona la partita buona vittoria buona vittoria buona vittoria assolutamente tutto quell'aspetto sono contento ma per migliorare bisogna sempre guardare i problemi i difetti perché per migliorare non puoi guardare quello che è andato bene cioè quello che è andato bene oggi cos'è? il risultato e basta il risultato e basta non hai creato chissà quante palle gol hai avuto due palle gol con McKennie il gol con Krusevski e quella con Quadrado che si arriva a Morata lì Morata deve stare un po' più sveglio secondo me però Morata lo capisco perché non perché è Morata semplicemente perché comunque è appena tornato l'infortunio ha recuperato prima di Dybala che non aveva una lesione Morata ce l'aveva è entrato subito contro Roma e ha giocato oggi secondo me ha giocato una buona partita oggi Morata quando gioca da 4 lo dico quindi vabbè il problema in chiesa chiudo è che o gioca le partite da 8 o le gioca da 4 questo è il problema in chiesa non riesce a trovare una metà via per giocare una partita 6-6,5 questo è il problema in chiesa comunque buona vittoria bene così ragazzi l'Atalanta ha perso 3-2 tra l'altro in rimonta contro United siamo la scuola italiana per l'altro che sta peggio in campionato di quelle che sono le competizioni europee ma che sta meglio in Champions League con i campioni dell'Europa nel girone quindi questa cosa sicuramente è positiva ma ci sono tante cose a migliorare lo ripeto perché poi quando affronterai squadre con una certa intensità con una certa qualità dagli ottavi in poi ragazzi lì sono cazzi perché se tu hai le tu se tu vuoi giocare anche in contropiede ma non hai non metti qualità e velocità di pensiero nei contropiedi che fai perché il Chelsea attenzione il Chelsea si giocava in contropiede l'anno scorso ma giocava con qualità e velocità velocità non solo di gambe ma di testa ripartiva in velocità e poi pressava che era una meraviglia intensità allucinante e costruiva dal basso comunque quando recuperava la palla in difesa e ripartiva dal basso non è che lanciava a lungo quest'anno probabilmente il difetto è proprio questo che hanno Lukaku perché Lukaku di fatto vi ripeto limita il modo di giocare una squadra perché può giocare solo in un modo lancio lungo Lukaku tecnicamente non è valido quindi non puoi fare gli scambi di prima con Lukaku poco a fare tant'è che poi qua fanno 30 gol vanno da altre parti fanno 3 gol in 8 partite in Inghilterra bene detto questo fino alla fine forza di Ventus ragazzi bene così 9 punti e adesso adesso da domani si potrà piacere l'Inter domani ci sarà probabilmente il video del giorno dopo sullo Zenit magari vedremo se faremo se farò un'analisi tattica veloce con 3-4 situazioni vedremo vedremo domani mattina vedremo se mi metto un po' lavoro e poi da domani dopo il video che farò uscire si penserà si penserà alla partita contro l'Inter domenica sera ma oggi era importante era più importante questa partita punto prima fine a parte di Ventus e ci vediamo domani ciao a tutti